Medell Il dietro le quinte di Medell ex Inter immortalato nudo dalla moglie che ha coperto le chiappe del suo pitbull con un emoticon raffigurante un temporale meno Medell Fcinter 1908. Da una parte c'è la moglie Cristina Morales, dall'altra Gary Medell. Nulla di strano se non fosse che la donna ha immortalato l'ex nerazzurro intento a gironzolare per casa completamente nudo Dalle storie di Instagram della Morales, si vede il giocatore cileno mentre è intento a scattare una foto col suo cellulare dalla finestra, il piccolo particolare è che Gary è nudo ma la scrupolosa Cristina ha coperto le parti basse del marito con una emoticon raffigurante un temporale La foto è accompagnata da questa frase, se qualcuno sta guardando le storie di Gary Medell, questo è il dietro le quinte Grazie a tutti